Ciao a tutti amici di Shortini Film Festival, come vedete i preparativi sono in corso. I ragazzi stanno lavorando incessantemente per darvi il meglio. Vi aspettiamo questa sera dalle ore 17.30 con le attività per i più piccoli. Subito dopo il viale degli artisti è la zona dedicata all'astrologia. Per finire con la proiezione dei cortometraggi selezionati per voi. A dopo e buona visione! Ciao a tutti!